ciao ciao tito maianti scomunicare oggi ti parlo del modo migliore per farti trovare dai tuoi clienti se hai una piccola attività un piccolo negozio come potrebbe essere sei proprietario di una palestra sei proprietario di una ferramenta hai un negozio di vestiti questo negozio di vestiti ha dei capi particolari ok sei un traslocatore come il mio amico paolo ok il modo migliore per farti trovare e lo vediamo dentro il video ci troviamo sul sito di google google.it vedi che sto usando il mio browser chrome e al giorno d'oggi la mia domanda la domanda che ti voglio fare come fanno i clienti a cercarti prima di tutto non ti cercano dal computer come sto facendo io ma a fini didattici per farti capire che cosa intendo va bene anche il desktop tieni conto che ormai il 60 70 per cento delle ricerche la gente è online e le fa attraverso il proprio smartphone dunque anche il tuo sito va adattato allo smartphone e come si dice in gergo deve essere un sito responsivo che si adatta praticamente anche a quello mettiamo che tu adesso abbia una pa le stra prima di tutto non lo abbiamo scritto ok e andiamo a scrivere pa le tra ok come vedi lui sta già andando ok in suggerimento perché questo è google suggest vale a dire i suggerimenti di google qui ti dà già l'idea delle parole chiave che le persone usano ok perché questi suggerimenti amico io non sono a caso questi suggerimenti google te dimostra come i più probabili che tu stia cercando alla luce di quelli che sono i tuoi comportamenti ma anche alla luce di quelli che sono i comportamenti delle persone quando inizia iniziano a digitare p e poi a e poi l palestra vedi lui sa dove abito e mi sta già suggerendo palestra a brescia poi mi tiene anche palestra in modo generico palestra millennium comincia a darmi dei suggerimenti mi dice anche la via palestra per arrampicata comincia ad aprirmi le possibilità poi comincia a vedere anche palestra vicino a me metti che io non voglia andare a fino a brescia perché abito una ventina di chilometri a brescia come vedi google attraverso il suo algoritmo ha già analizzato tutte o tante le tue possibili intenzioni di ricerca e cerca di facilitarti il compito lui probabilisticamente grazie all'algoritmo fa in modo di darti dei suggerimenti questi il più vicino possibile ok adesso andiamo a vedere la pagina di ricerca di google gli diamo invio e come vedi qui abbiamo tanti suggerimenti abbiamo prima di tutto questo club di brescia scopri vantaggi ok la palestra si chiama virgin acti è un sito però dobbiamo anche vedere che qui c'è una parolina magica c'è scritto annuncio proprio di questo ti volevo parlare ok questo è uno snippet strutturato puoi andare sulla pagina abbonamento o sulla pagina abbonamento digitale ci suggerisce magari avessi gusti particolari sempre per annuncio queste persone che annunciano sono persone che pagano per essere in prima e seconda posizione tornando a noi all'inizio del nostro video quello che ti voglio dire che se hai una palestra se hai un ferramenta se hai un vestito dei vestiti particolari altre attività per cui vuoi farti conoscere da un pubblico più grande di quello che ti scopre solo per suggerimenti gratuiti come questi devi scendere questi qui sono su questi qui sono su mappa sono tutte persone che sono iscritte a google my business complimenti sono tutte persone che hanno un sito web dove possiamo andare anche a vederli per analizzarli e qui vi sono i primi che appaiono con una seo gratuita nei primi posti per la ricerca palestra brescia ok dunque significa che questa attività vergine active paga per essere al primo posto per questa parola chiave la stessa cosa succede per questa palestra di montichiari www.supertonic.it che ci mette anche l'estensione di telefono possiamo anche chiamare se adesso fossimo se il fu cellulare tu puoi anche cliccare e chiamare in modo diretto qui c'è la mappa ci devi essere amico mio e qui abbiamo le parole correlate ok le troviamo anche qua in basso altri suggerimenti la gente come video molto interessata i prezzi alle palestre low cost che trova un pochino dappertutto in brescia e provincia dunque che cosa ti volevo dire pagando pagando c'è la possibilità di farsi vedere lavorando bene soprattutto di farsi vedere nei primi posti e questo è uno strumento veramente potentissimo perché ti fa vedere ai primi posti anche quando cercano palestra brescia da cellulare perché guarda che adesso tieni conto soprattutto che siamo i primi dell'anno e moltissime persone si vogliono iscrivere per andare a bruciare quelle bruttissime calorie che abbiamo accumulato durante le feste di natale quindi la prima cosa che ti consiglio di fare e devi toglierti dalla testa che google ads sia caro ok non è più caro di facebook ma al contrario di facebook non ti sto dicendo né che sia meglio né che sia peggio però al contrario di facebook che va a intercettare quella che viene definita domanda latente deve immaginare che le persone non sono su facebook per cercare sono la che scrollano dal loro cellulare sono gli scroller ok non stanno attivamente a cercarle non sono i searcher lo stanno cercando quello che gli interessa google va a intercettare la domanda attiva l'intenzione di ricerca reale come ti ho detto nella clip precedente delle persone e ti suggerisce anche quello che potreste mai stare cercando dunque il mito da sfatare google non costa più caro di facebook e per gli scopi di un negozio locale come una palestra la gente non va da 250 km a meno che tu sia un personal trainer che fa dei video online e li puoi vendere anche in sicilia nella tua palestra fisica a brescia centro o a mottichiario a castellidolo paesi limitrofi qua intorno le persone non vengono da più di 20 km due volte alla settimana perché poi diventa veramente una vera e propria rottura di puntini 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 e non voglio diventare volgare la prima cosa che devi fare adesso ti dico dove recarti sul sito sul web per iniziare a fare la tua pubblicità online sempre su google tieni conto che google è quasi monopolista nel mondo occidentale abbiamo altre cose a oriente in russia yandex e roba del genere digitando la parola chiave la keyword google ads arrivi qua google fai crescere la tua attività ok google ads devi entrare ed iscriverti ok se io clicco dovrei entrare in maniera diretta andiamo a vedere no guarda tu non cliccherai accedi perfetto tu andrai a cliccare inizia ora qui inserirai tutti i tuoi dati non guardare i miei vari account google io questo lo faccio per lavoro torniamo indietro che farà delle domande semplicissime e se vuoi veramente io in pochi pomeriggi ti insegno a fare e a monitorare la tua attività online e ti rendo indipendente da tutte le agenzie che ti vogliono stare addosso e farsi pagare vita natural durante dunque per oggi ho finito sotto ti lascio tutti i miei contatti ed anche qua in sovra impressione hai il la mia mail per contattarvi se hai una palestra un ferramento è un negozio altre attività se un chiropratico un massaggiatore un parrucchiere chi più ne ha più ne metta io al tuo posto non perderei la possibilità di fare davvero la pubblicità su google per andare a intercettare la domanda consapevole ed andare ad aumentare il tuo numero di clienti tieni conto anche che i costi li hai completamente sotto controllo per contatti qua sotto è la mail ciao ciao buone cose da tito maianti